La città si prepara a vivere un dolce fine settimana grazie alla festa del cioccolato artigianale in programma da domani a domenica a lungo corso Vittorio Emanuele. Tre giorni dedicati ai golusi e non solo, con la possibilità di degustare vari tipi di cioccolato o prodotti che derivano dalla sua lavorazione, assistere ai laboratori per grandi e piccini dedicati alle creazioni dei grandi maestri del cioccolato e dei pasticceri selezionati su tutto il territorio. Avellino entra finalmente in un circuito regionale di attività che riguardano la trasformazione artigianale dei prodotti. Partiamo col cioccolato, sarà la prima tappa. Ci saranno a Avellino 25 aziende del settore proveniente da buona parte d'Italia che presenteranno e faranno anche degustare le loro migliori produzioni. Noi cerchiamo con queste iniziative che facciamo di tirar fuori i prodotti della tradizione, farla diventare cultura e farli diventare marketing territoriale perché tutto ciò che si fa in una zona dell'Irpinia che è Torrone è chiaro che è un attrattore turistico del cosiddetto turismo lento che oggi brevi soggiorni, tempo per vedere le cose, per fare le cose, per assaporare i profumi, i colori, i sapori di ogni zona. Vogliamo rivolgere un invito dunque all'Irpinia a partecipare? L'invito è chiaramente per tutta l'Irpinia a partecipare anche perché successivamente avremo un'altra tappa di un altro circuito che si chiama Gusto Italiano dove contiamo molto su una presenza significativa dei prodotti irpini. Già in questa iniziativa avremo tre maestri, anzi maestre cioccolatiere che faranno delle experience col pubblico e addirittura la domenica pomeriggio con i bambini. Sabato mattina dalle 11.30 alle 13 le telecamere di Prima TV saranno in diretta con l'Aicos dal Corso Vittorio Emanuele per la festa del cioccolato artigianale.